Il tiro non c'è nessuno sul secondo palo. Romigno, cerca Ibrahimovic, Zanatiero a Ibra, prova a piazzare. Il tiro non c'è nessuna traiettoria Garza. Il lancio a cercare di primo, il circuito di petto perfetto di Ibra, c'è Pisano sui ultimi. Si propone Mesba, pallone per l'Algerino, vuole rientrare sul sinistro, prova il tiro! Una palla di poco, alto sopra la traversa. Parte Ibra, palla che gira! Ibrahimovic! L'altore di Ibra, il quindicesimo. L'extensione verticale per Ibrahimovic, la sfonda. Gocerino! Gocerino! Nella settimana in campionato, è guagliato la raccorda di Peretti. 40 anni fa, 7 gol. Non aver mai segnato così tanto. Non aver mai segnato. E Marlinson. Gira per Ibrahimovic. Velo di Romigno. Poi il pallone al limite. Gocerino! Grande parata di Agazzi. Serie di blocchi in aria, parte Sederf. Al volo! La conclusione del Sharabi. La palla di poco fuori. E' segnato di Marlinson. Parte il tiro. Agazzi. Grande giocato di Marlinson. E' segnato di Marlinson. All'Inter c'è Ambrosini. In preposizione. Ambrosini! A go! Ambrosini. 3 a 0. Ineva la chiude. Di Barbo. Parte il tiro. Grande giocata di Barbo. E' Marlinson. La finta di Marlinson. Disorienta Conti. Poi il pallone che schizza. Dalla distanza. Bop-bop! Siano anche i ragazzi. Arriva l'ocerino. C'è fuori gioco.